ed eccoci ritornati con mattina live in diretta da sanremo saremo non è solo una kermess musicale ma anche lo specchio dei tempi per quanto riguarda i look e le tendenze parleremo proprio di questo con i nostri prossimi ospiti e quindi vi presento subito do il buongiorno a malena buongiorno antonio riccardo e nicola cella buongiorno e allora il look puoi daci per questo festival abbiamo visti ieri sera veramente alcuni veramente super malena allora io in verità sono stato in viaggio tutto il tempo quindi vi chiedete cosa che non ho visto per essere qui stamattina ero in viaggio quindi vi direi una bugia però la cosa è certa che saremo è sempre stata diciamo un palco dove appunto abbiamo visto l'audacia però mischiata sempre a quel tocco di vintage un po di classicità insomma forse l'unico palco dove ancora un po possibile azzardare con il look forse restando sempre nell'eleganza italiana quello è certo è possibile azzardare con il look sul palco di sanremo antonio allora diciamo quest'anno è un look minimal un trend di chic mi è piaciuto tantissimo anche il make up make up questa liner molto molto sofisticato un look molto molto pulito pulito quindi senza esagerare anche nel truco proprio la donna così con l'eleganza un look molto molto pulito molto raffinato poi se andiamo oltre andiamo un po nella volgarità e sì perché anche quando gli abiti poi sono più eccessivi magari rimanere sul sobrio soprattutto per quanto riguarda magari il lato del dei look quindi del della bellezza ecco magari è stata comunque anche identificata in base al personaggio che ci troviamo davanti faccio un esempio clara appunto prima è stata intervistata in un abito armani con un trucco molto 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 pulito tendenzialmente c'è una differenza comunque di look come big mama che ha utilizzato un abito molto più bambola se vogliamo definirlo e con un trucco invece che riprende una cat crease affilata che vuol dire vuol dire che è una disegno sull'occhio che determina comunque quella felinità nella donna in più una base comunque anche molto porcellanata quindi veramente un look abbinato anche all'abito altro quest'abito bellissimo che le dava le forme e ha voluto anche mandare un messaggio perché lei manda dei messaggi molto importanti quelli di andare contro ogni stereotipo di bellezza assolutamente sì ogni 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 una differenza rispetto alle altre come d'altronde anche le altre cercano di mandare un messaggio che sicuramente di far discutere di loro stessi ma lena non hai visto la prima puntata ma che cosa dobbiamo aspettarci secondo te per questo sanremo beh io un po sentivo i commenti in viaggio e tutti si aspettano quest'anno una vincitrice donna insomma si chiacchierava proprio sulla donna sulla donna e quindi io mi auguro ok che ci sia una donna sul podio però che sia una donna che non venga premiata soltanto perché donna perché molto spesso insomma si esalta la donna in quanto tale però bisogna dare anche atto che l'arte e donna quindi in questo caso anche l'arte sonora calora è molto molto donna quindi indipendentemente dell'essere dall'essere donna speriamo che ci sia una donna su quel podio ma appunto come come voce come voce non solo perché donna assolutamente quindi per quale donna faresti il tipo fa il tifo per questo festival allora io il festival non sono nulla sono nulla perché io sono molto molto classica molto classica quindi diciamo le cantanti che mi piacciono non ci sono più non ci sono più ci sono più poi con io sono crescita nel passeggino con mina quindi passo da mina e loredana per te quindi per me restano i miei miti quindi loredana cercherò aspettarò di sentirle tutto quanto perché è sempre stata una delle mie preferite insomma proprio per questa carica questa energia che ha sempre trasmesso anche un po' mascolina a volte questa grinta non sexo è il caso di dire ha una bellissima canzone allora l'ascolterò tra l'altro anche il look di loredana che cosa ne pensate un look che comunque riprende la sua personalità la rispecchia da anni poco si differenzia rispetto agli altri sarimi di cui lei ha partecipato invece parliamo dei look dei protagonisti dei ovviamente di amadeus del co conduttore marco mengoni io direi marco mengoni mi è piaciuto tantissimo ha usato è molto mascolino anche nel nel suo outfit l'anno scorso invece troppo costruttivo e quest'anno davvero abiti di armani c'è anche con gioielliere aveva questo abito un po più luccicoso gli stava bene molti hanno scelto gli abiti luccicosi soprattutto gli uomini e perché diciamo da quel tocco in più quello stile in più però bisogna anche avere una giusta fisicità perché non tutti lo possono indossare non tutti lo possono portare no assolutamente no poi si è molto spesso poi a volte si come dicevamo prima si va un po nell'eccessivo però evidentemente quest'anno gli uomini hanno voluto ricorrere appunto alla luce perché c'era bisogno di un po più di luce diciamo così forse dopo anche questi anni un po più di peso insomma con quello che avevamo passato con covid e quant'altro magari si è voluto dare un tocco di luce anche per questo per illuminare non solo con la voce ma anche con gli abiti bellissimi tutta tutta la kermesse beh gelier comunque ha determinato una differenza rispetto a quello che era magari due mesi fa no sì molto più dimagrito vero una differenza anche sia sul taglio che sul baffo molto curato in linea con lo stile italia assolutamente vero è vero tu che sei tra l'altro la regina della sensualità chi può portare secondo te più sensualità al festival tra emma annalisa alessandra amoroso io ho una predilizione per annalisa non so perché un look proprio grinto a una sì però una dolcezza secondo me sì però ha una dolcezza secondo me dentro dentro di sé esprime dolcezza non so se sono gli occhi o il portamento che ha che un portamento di una dolcezza assoluta e la sua per me la sua sensualità è data dalla sua dolcezza non so non la conosco personalmente però guardandola l'ho vista qualche volta dietro le quinte di qualche trasmissione e secondo me la sua dolcezza la rende ancora più sensuale assolutamente forse la nasconde un po con il fatto che comunque ecco infatti l'indossare per reggi calze da comunque quel tocco di noi continueremo a parlare dei look di sanremo perché ci aspettano tantissime altre serate vi ringraziamo per essere stati con noi stamattina e noi ci vediamo domani sempre qui a sanremo con mattina live direttamente da sanremo grazie